L'azienda agricola del signor Sergio, dove lavora insieme alla moglie, rischia la chiusura. La terribile grandinata di mercoledì non ha risparmiato il terreno dove ha vigni, alberi da frutto e ortaggi. Quest'anno sarà un raccolto magro. Secondo la sua stima, riuscirà a produrre circa la metà di quanto preventivato. Non ha alcuna assicurazione a coprirlo, perché, ci spiega, è una tassa che non può permettersi. Devono sapere questi signori che è molto caro e allora non si può pagare con questi prezzi che ha la campagna, l'assicurazione. Quindi non è remurativo e sono stato costretto a non farlo più. Coltiretti Abruzzo rivela che fenomeni come quello di mercoledì sono in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E ora è necessario che le autorità competenti valutino il danno e si chieda lo stato di calamità. L'assicurazione non mi hanno detto niente, stanno dicendo che dichiarano la calamità naturale, nella speranza che qualcuno ci... Qui come altrove, l'agricoltura abruzzese è stata spezzata dalla grandine. Adesso o si sostiene i contadini o tante piccole attività nostrane saranno costrette a chiudere. Come ben sapete, gli agricoltori hanno un po' la testa dura, per questo che si va avanti. Però se continua così dobbiamo chiudere. Addirittura si parla di chiudere? Sì, perché un seguito non abbiamo perché i miei figli non lo fanno. E poi a queste situazioni, a queste condizioni non si può lavorare.